La Guardia di Finanza di Bologna e l'Agenzia delle Dogane hanno sequestrato lingotti d'oro per un valore pari a circa 400.000 euro. L'operazione è presso lo scalo aeroportuale Marconi, dove è stato fermato un cittadino di nazionalità rumena che stava per esportare lingotti d'oro in violazione della normativa del mercato dell'oro. All'uomo che non aveva preventivamente dichiarato l'operazione all'unità di informazione finanziaria, sarà combinata una sanzione dal 10 al 40% dell'importo non dichiarato. La Guardia di Finanza